buon dizionario allora oggi non avremo ospiti ah beh ditemi non si mangia non si parla con la bocca piena avete ragione oggi non ci sono ospiti perché vi faccio vedere io diciamo un gioco di prestigio un gioco diciamo così mentre mi mangio due patatine se posso un gioco di magia di prestigio come volete chiamarlo allora diciamo farò scomparire l'acqua ebbene sì farò scomparire farò scomparire l'acqua non ci credete così basta basta mangiare le patatine vedete adesso veramente voi non ci credete ma io ci credo che ci scomparire l'acqua al 3 1 2 3 come vedete diciamo che gioco è riuscitissimo l'acqua è scomparsa buon dizionario le prossime puntate ciao